Leonardo Sernicola Leonardo Sernicola, finalmente è arrivato a questo esordio con la prima squadra innanzitutto l'emozione, sei contento, sei felice? Sì, sì, grande emozione per l'esordio e niente, molta soddisfazione Sernic è stato buttato dentro in un momento in cui il risultato non era affatto scontato credo che questo ti dia molta fiducia anche per il proseguo della tua giovane carriera Sì, sì, mi dà molta fiducia, sono entrato sull'uno pari, risultato sicuramente ancora in bilico e ho cercato di fare il mio meglio e vediamo un po' nel proseguo della stagione Intanto raccontaci un po' le emozioni di quando hai saputo della convocazione e poi dell'ingresso in campo Sì, sì, questa è la quarta convocazione, c'è stata grande soddisfazione anche per quest'ultima convocazione e speriamo anche nelle prossime E l'ingresso in campo? Quando ti hai chiamato? L'ingresso in campo mi tremavano un po' le gambe e volevo subito entrare in campo Si è anche visto e Lorenzo mi ha detto aspetta, aspetta Si, ho visto, volevi entrare Volevo entrare a tutti i costi, sì, sì Senti, che voto ti dai per questa prestazione? Il voto sinceramente non lo so, ho cercato di dare tutto in campo, avere la massima concentrazione e ho preso i consigli che mi ha detto il mister prima di entrare in campo Senti, che tipo di giocatore sei? Sinceramente non lo so, ancora non ho un ruolo ben definito Questa stagione ho giocato sia da terzino che da centrocampista che da centrale difensivo e mi metto a disposizione della squadra e il mister ha a decidere E sordire in Serie B e trovarsi di fronte a Ragusa, uno dei migliori della categoria, non è facile? No, no, assolutamente non è facile, aveva un gran passo, grande tecnica, un bel giocatore e ho cercato di limitarlo il più possibile e ho fatto del mio meglio Grazie, grazie Leonardo Grazie, bocca al lupo